L'esperienza di Mafia Inside, soprattutto del laboratorio, di creazione cinematografica che è stato condotto da Carlo Lo Giudice, oggi ci ha donato il momento finale, il momento più bello che è quello della condivisione con il pubblico e con i ragazzi soprattutto che hanno vissuto questa esperienza. Le emozioni sono tantissime perché, a parte che per quanto mi riguarda, il contatto con questa scuola non è il primo, ma tante altre volte ho avuto l'occasione di misurarmi e di confrontarmi con questi ragazzi in diversi laboratori teatrali, ma in questa esperienza ci sono tante parti della mia vita professionale che si sono condensate proprio in questo prodotto, che quindi doppiamente mi commuove, soprattutto perché parla di una realtà, di una dimensione sociale e anche umana che vive proprio in queste zone, in questi quartieri, che parla di una Catania che solleva il grande tema della legalità o della possibilità della risoluzione personale di ogni tipo di problema, così come è narrato nel nostro film. Che dire, grazie a tutti e alla prossima!